Ciao a tutti, vediamo in questo video la donna narcisista maligna perversa. Prima di affrontare il tema però iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Iscriviti al canale attivando appunto la campanella e abbonati al canale. Puoi abbonarti scegliendo tra diversi livelli di abbonamento. Ma veniamo al tema, la donna narcisista maligna perversa. Allora, qual è una donna narcisista maligna? Intanto perversa, intanto dobbiamo tenere presente che spesso si parla di narcisismo al maschile ma ci sono molte donne narcisiste, perverse, maligne, che diciamo sono molto più sgamate degli uomini della controparte maschile e fanno gli stessi danni, se non danni ancora maggiori. Qual è la tipologia di questa donna? Da dove nasce questa? Beh, intanto diciamo che spesso questa modalità si è, l'hanno imparata in famiglia fondamentalmente. Spesso hanno una madre narcisista, ad esempio. Infatti magari una madre narcisista che è stata lasciata dal marito e si è trovata, magari un secondo marito, sottomesso completamente. Magari uno pure, come dire, leggermente, apparentemente, leggermente, come dico, un qualche deficit pure, che magari aveva un lavoro pure, come possiamo dire, un lavoro rispettabile, magari lavorava pure in banca, per dire. Però, diciamo, mentalmente era, o è, poco, come possiamo dire, poco scaltro. Quindi già la madre spesso ha questa caratteristica, perché spesso viene trasmesso come modello. E questa donna, infatti, questo tipo di donne hanno poi anche conflitti con le madri, delle quali però emulano il comportamento. Quindi già la madre, diciamo, tende a trovarsi normalmente un secondo marito che sia completamente dipendente e che, tra l'altro, utilizza sia da un punto di vista economico, sfruttandolo economicamente, sia da un punto di vista, diciamo, di mille cose che gli farà fare, insomma, avendo un cavaliere servente. La figlia, normalmente, utilizza, anche se in conflitto con la madre, questo tipo di comportamento molto simile, emula questo comportamento genitoriale, e normalmente peggiorandolo, peggiorandolo moltissimo. Come agisce, quindi, questa donna che è in una famiglia narcisista? Spesso se ha un fratello oppure il fratello ha caratteristiche narcisiste. Questo metodo di modo di fare, diciamo, della donna narcisista è un modo di fare maligno e perverso. Maligno nel senso che cerca di danneggiare gli altri, e vedremo come li danneggia. Perverso, nel senso che usa soprattutto la perversione sessuale, o la sessualità, per avere più relazioni. Intanto questa donna, normalmente, ha un sacco di relazioni nascoste, un sacco di relazioni, diciamo, che porta avanti per avere il suo, come dire, appagamento narcisistico, per cui un sacco di relazioni, con spesso molti amanti, molti amanti nascosti, alcuni li tiene sempre per un motivo, però. Per un motivo o per l'altro c'è un discorso utilitaristico, che non è tanto da un punto di vista sessuale orgasmico, perché spesso si tratta di donne anorgasmiche, che difficilmente hanno orgasmi, ma proprio per avere il controllo, il piacere di dominare l'uomo, ad esempio, attraverso la sessualità. Avendo più uomini, contemporaneamente, relazioni nascoste, può metterli tutti in competizione, in modo tale da generare hype, da generare interesse nei suoi confronti, suscitando gelosie, ad esempio, suscitando contrasti. Poi si trova una persona, diciamo, che può diventare per un certo periodo, perlomeno, la fonte di approvvigionamento. Cerca di capire se può essere una fonte di approvvigionamento, diciamo, primaria, presentandosi spesso anche come povera vittima, magari vittima di questi uomini che l'hanno sedotta, che se la sono fatta e sono scappati, ma non è niente vero. Magari ha avuto pure un marito che l'ha lasciata, si spera, diciamo, che si sia accorto di averla lasciata, magari in situazioni anche di difficoltà, ma in realtà, magari quando era incinta, ad esempio, ma in realtà la vera difficoltà non sta nel fatto che l'ha lasciata al marito, perché il marito l'ha lasciata, l'ha lasciata sicuramente perché si sarà reso conto che questa donna, diciamo, intanto era completamente, come dire, lo cornificava di lungo e in largo, e poi era destrutturata come persona, era un pozzo senza fondo. Queste donne di solito hanno anche, non sanno gestire, ad esempio, il denaro, spesso si prostituiscono anche, ma così magari, che ne so, nelle discoteche o nei locali, insomma, o trovano qualche fesso che gli raccontano delle storie, magari che hanno bisogno, che ne so, della babysitter, ah, devo pagare la babysitter, lasciami, che ne so, perché se no non possiamo vederci, oppure si inventano delle storie quando trovano dei fessi che comunque gli, diciamo, foraggiano economicamente. Quindi perché diventa una narcisista maligna? Perversa per l'utilizzo smodato della sessualità, maligna perché poi il suo obiettivo vero di fondo è quello di danneggiare comunque le persone, danneggiarle economicamente, perché molte persone possono anche rovinarsi economicamente o esporsi economicamente per una persona che poi magari i soldi se li sputtana tranquillamente senza nessun ritegno fondamentalmente, per avere l'esigenza di controllo, per portare, diciamo, la persona a fare quello che vuole lei. Normalmente non sono neanche donne belle, diciamo, sono provocanti fisicamente, talvolta si spingono, diciamo, cercano di evidenziare la bellezza attraverso magari diete smodate, esercizi fisici smodati, ma hanno un po' di, come dire, testosterone fondamentalmente, una modalità molto maschile, ad esempio, nel vivere la sessualità. Hanno sempre storie in parallelo, più di una, non hanno difficoltà ad avere più rapporti sessuali, anche quotidiani, diciamo, con uomini diversi, e cercano comunque sempre uomini da sfruttare, che ricambiano, diciamo, quando si rendono conto che un uomo non è sfruttabile o comunque non è, come dire, disposto a diventare uno schiavetto, tra virgolette, disposto a soddisfare le sue esigenze, chiudono e guardano oltre. Hanno questa modalità. Diciamo che sono anime inquiete, sono donne che apparentemente sono forti, ma hanno gravi problematiche, proprio di natura psicotica, hanno un'ambivalenza forte, che da un lato attrae l'uomo, perché nelle prime fasi del rapporto si può presentare anche come una donna ideale, diciamo, cerca di modellarsi sulla personalità del suo amato al fine di conquistarlo. Sono donne camaleontiche che riescono a mostrarsi in qualche modo, ma poi tendono a far vivere i sensi di colpa. E una caratteristica che hanno è proprio quella di andare a cercare, magari, che ne so, al messaggio che ha mandato l'uomo, una cosa piccola, qualche cosa, per poi giustificare il fatto che loro l'hanno data a cani e porci, ad esempio. Sempre come reazione. Quindi hanno la modalità dell'utilizzo del senso di colpa, è una modalità che utilizzano molto spesso, molto frequentemente. Hanno alcune caratteristiche che sono un egocentrismo sfrenato, una vanità, è convinta di essere una persona speciale, più bella delle altre. Per questo, ad esempio, magari, che ne so, cercano di fare sport, dove mettersi in mostra, ad esempio, che ne so, sfilate di bodybuilding, cose di questo genere. Hanno un'invidia, un'invidia molto forte verso le altre donne e verso gli uomini. Hanno richiesta di continue conferme e prove d'amore che attestino il suo valore e l'interesse dell'uomo nei suoi confronti. Quindi hanno bisogno che quest'uomo costantemente dia delle cose. Hanno una scarsa sensibilità. La donna narcisista malinna perversa ha una scarsa sensibilità, ha la tendenza a fare paragoni, ha una ideazione paranoide, diciamo, tendenzialmente paranoica, è anche destrutturata, ossessiva, paranoica. Ha la sensazione che tutti la invidiano, che stiano tramando le sue spalle, che ci siano le macchine che la seguono, che siano ingrati con lei, mentre lei invece è una persona sincera, leale, disponibile. Gli altri sono sempre poco limpidi, sono sempre persone che lei giudica malevole, ingiuste. Ha la tendenza a idealizzare e poi a svalutare gli altri. Prima li idealizza e poi li svaluta. Ha una vendetta, diciamo, verso anche le altre donne. E questa cosa qua, ad esempio, si manifesta avendo relazioni plurime anche con uomini sposati, poi tendenzialmente cerca di far scoprire, seminare a zizzagne, ha incontri, diciamo, ad esempio con uomini sposati, che ne sono al mattino in palestra, alle sei del mattino, oppure... Poi l'obiettivo alla fine è quello in un modo o nell'altro di far capire alla moglie, far sgamare la relazione. O anche altri tipi di relazioni, sempre con uomini impegnati, o più sanno impegnati, ma poi il suo obiettivo è quello di danneggiare. Ha relazione ad andamento ciclico, diciamo così, nel senso che utilizza molto il push-pull, aggancia molto uomini che temono l'abbandono, che sono insicure, temono l'abbandono. Il suo obiettivo è far sentire l'altro inadeguato, al fine di impedire che si allontani, perché poi alla fine l'obiettivo è quello. Diciamo, l'infanzia spesso l'hanno avuta, diciamo, con situazioni paradossali, diciamo, talvolta ci possono essere stati genitori tirannici, punitivi, talvolta qualche molesta, ma non importa. Però, soprattutto, è un imprinting vissuto nel rapporto con la madre. La madre che spesso ha proprio queste caratteristiche, come dicevamo prima, magari non marcate come le sue, ma tendenzialmente ha queste caratteristiche. Ora, se sei in una relazione con una partner narcisista malina perversa, l'unica possibilità che hai di troncare e di uscire fuori da questa relazione, che è sicuramente una relazione deprivante, è quella di amare te stesso. Se sei un uomo, devi amare te stesso, dare dignità a te stesso e, diciamo, renderti conto di questo tipo di persona, perché sono persone estremamente negative, sono anime nere, tra virgolette, quindi bisogna fare molta attenzione e quando ti rendi conto già che una donna tende a sfruttarti in qualche modo, che è un po' ambigua nei comportamenti, che può avere più relazioni, che ha relazioni nascoste, che ti parla di altri uomini, ti dice ah, questo, quell'altro, beh, tieni presente che puoi avere a che fare con una relazione di questo tipo, è molto probabile. Non ce ne sono tante e non tutte allo stesso livello, però, tieni presente che sono pericolose e non devi lasciarti inguagliare. Anche qua, coltiva molto l'autostima per liberarti da questo tipo di relazione. Per questo video è tutto, seguimi su Instagram, Massimo Terramasco Ufficiale, seguimi su TikTok e ti ricordo che sui canali ti puoi abbonare. Su questo canale, ad esempio, c'è l'abbonamento base con lezioni, l'abbonamento live per partecipare alle live, l'abbonamento base con lezioni mirate, l'abbonamento top con lezioni mirate e videoregistrazioni seminare dal vivo, l'abbonamento Master Consulting con in più una consulenza telefonica. Inoltre ti ricordo di iscriviti al mio nuovissimo canale Esoterismo e Spiritualità con Massimo Terramasco. Ciao a tutti!